Ancora Colombaro, serve Ferretti che può girarsi, la risposta del portiere Cicconetti punta, l'uomo Cicconetti se ne va in mezzo, serve Ferretti, altra parata Mettono la palla dietro, un liscio abbastanza clamoroso, poi Ferretti dal limite, prova col sinistro a metterla dentro Un'attività abbastanza equilibrata, per la verità anche se la Corsa Buona sta conducendo un secco 2-0 Che diventa 3 in questo momento con Goddi Ferretti che scarica in porta, un destro pazzesco Cicconetti si muove Ferretti, riceve palla al numero 11 che prova ad incrociare, buona intuizione, per meno la realizzazione